Noi siamo dalla parte del mare, dei mitilicoltori, della legalità, dei magistrati che giustamente devono far rispettare la legge. Siamo oggi con il collega consigliere Massimo Battista di una città per cambiare Taranto. Siamo a Mar Piccolo, zona Pizzone. Qui l'area è sottoposta a sequestro ma ai mitilicoltori è concessa la facoltà di svolgere per mare l'attività alla luce del veto che c'è nel primo seno. Sappiamo bene la presenza di dioscina e quant'altro. Però, caro Massimo, questi mitilicoltori devono avere anche le infrastrutture, il substratum, il minimo per poter svolgere la propria attività. Mancano i bagni e poi qui assistiamo alle nostre spalle a un accumulo di reti e di immondizia che andrebbero rimossi. Insomma, Massimo, è assurdo, è paradossale dire che tu puoi svolgere per mare la tua attività però poi intorno non c'è nulla. Allora, che sia chiaro Luigi, parliamo sempre di lavoratori e miticoltori così come quanto tutti gli altri operai, tutti quelli che svolgono attività, questi parliamo di lavoratori che sono a tutti gli effetti, hanno concessioni qui per poter svolgere le proprie attività nel secondo seno del Mar Piccolo. Bene, dicevi, parliamo di miticoltori che oltre al danno si è aggiunta anche la beffa perché sono stati spostati dal primo seno dove continua in perterrito ad inquinare la grande indossia perché parliamo di diossina nel primo seno, questi sono stati spostati nel secondo seno. Come dicevi tu, quest'area è posta sotto sequestro ma mancano i servizi minimi. Allora, giustamente qui si concede, si dà la possibilità ai miticoltori di poter accedere nelle acque, si arriva qui vicino alla banchina, devono prendere la barca e andare via. Non c'è uno stralcio di servizio e come tu dicevi, guardate un po' qui. Le immagini sono impressionanti, anche le condizioni di 42 gradi, le condizioni igieniche assai precarie, non certo per colpa loro ma proprio per mancanza di servizi. Allora è paradossale che uno possa svolgere l'attività e poi tagliargli, spezzargli le braccia. Come è sempre accade in questa città, Luigi, purtroppo qui si fanno i forti con i deboli, l'ho sempre detto e continuerò a ribadirlo, e poi si diventa deboli con i forti. Questi sono lavoratori a tutti gli effetti, la miticoltura tarantina, guardate le immagini che bellezza, è paradisiero, è veramente bellissimo stare qui. È incantevole, è solo incantevole. In un altro posto del mondo, sarebbe una meta turistica presa d'assalto. Purtroppo qualcuno si è fatto le campagne elettorali, come al solito qui, come noi tutti sappiamo, non c'è il piano delle coste perché qui, se noi andiamo indietro nel tempo, qui c'erano proprio le banchine negli anni 60-70. Purtroppo la grande industria ci ha tolto un po' tutto, ci sta togliendo l'unico valore aggiunto che ha questa città, la miticoltura. Però purtroppo, caro Luigi, mancano i servizi e poi bisogna dire che aspettiamo, attendiamo da parte di questa amministrazione, prima amministrazione Melucci e secondo il famoso piano delle coste. Io poi mi domando, chi ma ambiente AMIU, perché non interviene? Non mi venissero a dire che non ci sono i mezzi idonei a poter rimuovere i rifiuti? Perché ci sono il ragno, quant'altro? Anche si è visto che in passato la cosa è avvenuta e comunque non è una risposta logica dire non abbiamo i mezzi, allora che cosa accade Massimo? Che non ci sono i mezzi e questi cumuli di rifiuti dove devono arrivare? A 100 metri di altezza? Arriviamo a... ma sono delle risposte proprio insensate. Di gente che purtroppo non conosce il territorio. Ma inadeguata anche rispetto al compito, al ruolo che svolge. Siamo bravi poi a dare in testa i miticoltori. Allora i miticoltori dicono che è burto di mare, il polistrullo, le retine, le retine stanno tutte qui. Qua vanno rimosse, però io la domanda che pongo al presidente di Chimambiente, all'assessore dell'ambiente, al sindaco di Tato, una volta che il miticoltore arriva qui con la barca, guardate le retine, non stanno in mare, stanno qui. E' un gesto di civiltà, di rispetto. Dove devono buttarli i miticoltori? Per loro sarebbe stato molto più facile prendere e buttare tutto. Invece hanno avuto la decenza e il senso civico di accumulare, di lasciare. Guardate c'è di tutto, ci sono bottiglie, ci sono reti, ci sono sacchetti. Li hanno lasciati qui, appunto, in maniera civile e non gettati in mare. Però, voglio dire, a questo punto, loro hanno dato l'esempio. Però anche voi, signori di Chimambiente Amiu, dell'amministrazione comunale in genere, dovete dare delle risposte, ma più che risposte dovete intervenire. Perché le parole, quando voi parlate di blue economy, di green economy, di economia... Il progetto sulle retine, fatto lì, sulla discesa vasta... E poi, mi si parla della lotta all'inciviltà e poi, una volta che le persone, la gente si comporta civilmente, voi la penalizzate, la lasciate nel degrado. Solo annunce, fumo, Luigi, questa amministrazione non è in grado di gestire e amministrare questo territorio. Di questo si tratta. Ripeto, questa è un'area sotto sequestro, adesso bisogna dare seguito a tutte le attività propedeutiche per poter far svolgere le attività ai miticolturi. Allora, concludiamo. Io ho detto, purtroppo, con amarezza, non per disprezzare il territorio, ma perché le cose vanno dette, questa, purtroppo, una città fantastica, bellissima, ma ridotta, per come è amministrata, a città del terzo mondo. E sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, che queste immagini non sono purtroppo degne di una città del terzo mondo. Provateci il contrario.